I temi politici ma anche e soprattutto i dettagli che riguardano la nostra economia sono alcuni dei temi che approfondiamo insieme a Fabio Fortuna, economista, a cui do il benvenuto. Buonasera e buona Pasqua. Buonasera, buona Pasqua a lei che ci sta guardando. Ecco Fortuna, io inizierei subito con la presentazione del DEF che ricordiamo appunto al documento di economia e finanza che è attesa in Consiglio dei Ministri martedì, quindi manca veramente pochissimo. Tra i dati più importanti c'è proprio la previsione sulla crescita perché il PIL tendenziale del 2023 si attesterà allo 0,9%, quindi sono dati incoraggianti. Ci può commentare questo dettaglio a questo punto? È assolutamente incoraggiante, è una buona notizia perché in autunno il nostro PIL da molte fonti internazionali era dato addirittura negativo per il 2023. Voglio solo ricordare due agenzie di trading, Budis e Standard & Poor's, che pensavano a più di meno un per cento del PIL. Invece gradualmente, e già nella Nadef il governo ha espresso la possibilità di un più 0,6%, le prospettive sono migliorate e nel DEF noi dovremmo avere un più 0,9%, grazie anche a un andamento del primo trimestre più positivo rispetto alle previsioni. Come ci ha detto in questi giorni il bollettino economico di Banca d'Italia e anche l'ufficio parlamentare di bilancio. Quindi questo è un dato che ci conforta, certo non possiamo confrontarlo con i rialzi dei due anni precedenti che complessivamente ammontavano a più del 10%, più 3,7% nel 2022 e più 6,7% nell'anno precedente. Quindi un PIL però che va meglio di quanto potevamo prevedere, anche il rapporto deficit-PIL dato al 4,5% dovrebbe essere intorno al 4,35%. Quindi un leggero miglioramento anche per il debito pubblico PIL che dovrebbe attestarsi al 142-143, è sempre un dato elevatissimo. Allora noi abbiamo un debito pubblico bestiale che ultimo dato Banca d'Italia ammonta a 2.756 miliardi. Quindi il debito rimane un problema, speriamo nel tempo di poterlo attenuare e di migliorare questi parametri. Però le notizie indubbiamente sono incoraggianti. Guardando proprio i dati economici internazionali, sono attesi anche i dati della World Economic Outlook, saranno pubblicati nella mattinata di domani. Che cosa ci dobbiamo o possiamo aspettarci? Dovremmo aspettarci in questo appuntamento annuale, sono due all'anno, un aprile e un ottobre, un giudizio positivo per quanto riguarda il PIL italiano, perché il FMI era stato dai più critici. A ottobre aveva detto che noi avremmo avuto un PIL in decremento di oltre lo 0,2%. Poi a gennaio invece c'è stata una revisione, io credo che sarà in linea, ma a livello internazionale, OX, Fondo Monetario Internazionale e altri, anche le agenzie ireni che hanno rivisto i loro giudizi, sono orientati intorno allo 0,6-0,8. Ma credo che poi alla fine, visto il primo trimestre positivo, credo che possiamo andare ancora meglio. Rimarrà da attenuare l'inflazione, che sta scendendo al 7,7, però il carrello della spesa preoccupa, i consumi degli italiani preoccupano molto, perché indubbiamente il 12,7 di carrello della spesa di inflazione, l'ultimo dato, non sta migliorando e il governo dovrà avere molta attenzione. È già intervenuto sul caro Bollette, proprio in questi ultimi giorni, con un calo del gas del 13% e dell'energia elettrica del 55,3%. Quindi gli interventi ci sono, anche qui le prospettive dovrebbero portare a un graduale rientro all'inflazione e anche a un miglioramento delle condizioni di vita di noi cittadini, che dobbiamo purtroppo sopportare la perdita del potere d'acquisto. Certo, bene. Io ringrazio quindi Fabio Fortuna, economista, per essere stato qui con noi questa sera. Grazie a voi dell'invito e ancora buona Pasqua. Grazie a lei ancora per essere stato qui con noi.